scarta la carta scarta la carta mille accendini facci sognare vai mi dici ragazzi ho già recensito delle lampade di questo tipo da giardino vediamo il contenuto della scatoletta che c'ha anche quattro viti a stop un foglio di istruzioni ma le istruzioni sono bei nabbi ragazzi le istruzioni andiamo ad aprire andiamo a tentare di capire di che cosa si tratta allora si tratta di una luce di a giardino che si accende con in automatico con un sensore di movimento e crepuscolare cioè solo se c'è il movimento e solo se è notte poi all'interno ci sono le batterie sigillate quindi sono resistenti alla neve alla pioggia alla grandine batteria di ben 3600 milliampere pensiamo quanto può costare una batteria da 3600 milliampere e già capiamo che il rapporto qualità prezzo è ottimo ragazzi adesso io questa non l'ho vista in particolare quanto costava però quando l'ho comprate queste le hanno regalate quando le ho comprate come i soldi mi sono reso conto dico mappale però ma come fanno adatti un pannello solare che funziona è efficiente perché le batterie poi c'erano tutte quante le sere la batteria la luce led e il crepuscolare per così pochi euro adesso però vi metto il link in descrizione vedete quanto costano allora qui ci sono due due punti 1 e 2 nei quali possiamo metterci e le viti a stop o se no semplicemente due ghiotini anche con i ghiotini li possiamo prendere e attaccarli dove ci pare ora qui vedete che c'è un buchettino che ci permette di fare l'on off e all'interno ci avremo uno spillone sicuramente ma quello che mi avevo comprato in passato era così quindi anche questo lo vediamo c'è lo spilloncino eccolo qua c'è lo spillone per accendere quindi io accendo ok essendo che c'è la luce non si accende va approvato al buio andiamola a provare fuori al buio raga ah vabbè evidentemente poi non si vede però la confezione ne conteneva due andiamo a provare all'apierto allora raga eccoci all'aperto vado a premere e questa è la luce mettiamo la rivolgiamo verso la piramide guarda tanta bella luce che fa ok e al sensore si accende adesso prendiamo quest'altra mettiamo inserire nel buco accendiamo questa è l'accessione la fatta una volta sola raga eccoci qua chiaramente se c'è luce vedi se spenge l'altra vedi al buio solo se accende vedi come funziona c'è luce se spenge luce se spenge quindi si accende solo se c'è buio ecco qua al buio si accende se l'illumino vedi se l'illumino vedete se l'illumino si spenge quindi deve essere proprio buio guarda basta ecco così già basta che per spengerla se fossero uno davanti l'altra uno davanti l'altra si ingannano guarda come succede ok andiamo a vedere adesso c'ho difficoltà a accendere tutte e due contemporaneamente perché c'ho difficoltà accendendo tutte contemporaneamente però guardate quanta luce fa ragazzi guardate eccole la l'ho posizionato in quel punto guardate quanta luce fanno adesso perché ci sono io rimarranno accese per un tempo per un certo periodo dopodiché si spengono e si spengono si accenderanno al passaggio quando qualcuno passa all'interno del del sensore guardate si sono spenti entrambi è rimasta accesa quella piccola che è una che avevo che avevo recensito tempo fa adesso mi muovo eccolo qua quella piccola vedete che non sa accendere però guardate che luce è qui fuori praticamente guardate che differenza rispetto a prima conta come viene il video è vero che l'Ss8 fa anche a poca luce ma vi garantisco veramente una luce ottima e si ricarica semplicemente con la luce solare con la luce solare anche se non stanno al sole tutto il giorno perché tanto poi alla fine quando entri vicino casa non è che ci stai per ore quindi si accendono quei due tre minuti e poi e poi si spengono vedete io la nel giardino c'è la un'altra che mi si è accesa che è la stessa concetto la c'è una che me l'avevano regalata altri per recensirla ma queste vi devo dire la luce molto più forte con molti più led rispetto ai primi 96 penso che ancora oggi si possono comprare dei modelli adesso mi muovo un attimo ci muoviamo vicino e eccola che si accende un pochettino la luce è proprio tanta io praticamente avendo le messe vicino a questa inibisco l'accensione della piccola perché l'ho messo fino a quella se non ci fossero queste si accenderebbe la piccola vedi la piccola si accende se non ci fossero queste ma con queste sopra illuminano e quindi e quindi non fanno accendere la piccola va bene poi li posso mettere anche in punti leggermente diversi magari li metto un po più lontano però veramente fanno un'ottima nutrica promosso vi metto il link in descrizione